La stella che cambia il cammino della propria vita, che fa dimenticare gli interessi quotidiani, che trasforma il cuore inquieto e porta il re dei giudei in una povera casa di Betlemme. Papa Francesco descrive così il percorso dei magi fino a Gesù, nella messa celebrata in San Pietro, nella solennità dell'Epifania. Invita ad uscire dalle proprie chiusure, da se stessi, perché Cristo è la vera luce che rischiara, che illumina la vita delle persone. La Chiesa afferma al Pontefice, non può illudersi di brillare di luce propria, e il suo servizio è risplendere la luce di Cristo. I magi, ricorda, sono gli uomini di ogni parte della Terra, che vengono accolti nella casa di Dio, perché davanti a Lui non esiste divisione di razza, lingua e cultura. In quel bambino tutta l'umanità trova la sua unità. L'invito di Francesco è di seguire quella piccola luce, di interpretare i segni che Dio offre, di ascoltare la voce dello Spirito Santo, che lavora in tutte le persone, perché si possa adorare con tutto il cuore Gesù. Per la Chiesa, essere missionaria non significa fare proselitismo. Per la Chiesa, essere missionaria equivale ad esprimere la sua stessa natura, cioè essere illuminata da Dio e riflettere la sua luce. Questo è il suo servizio. Non c'è un'altra strada. La missione è la sua vocazione. Risplendere la luce di Cristo e il suo servizio. Quante persone attendono da noi questo impegno missionario, in questo senso, perché hanno bisogno di Cristo, hanno bisogno di conoscere il volto del Padre. Grazie. 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 Grazie.